Avete fatto un mezzo miracolo in tre mesi. Devo dire una frase molto cara al mio amico il sindaco di Tribalda. Quando è entrata ha detto questa non è la mia clinica, se ne è uscito perché pensava che aveva sbagliato posto. Invece è così, esattamente la stessa casa di cura che c'era prima. Abbiamo fatto un restaging, abbiamo fatto delle sistemazioni che erano assolutamente necessarie in parte e alcune sono un po' vezzose, tipo questa. Abbiamo modificato la hall, abbiamo preferito sistemare la hall in maniera tale che il cliente quando arriva abbia dei punti di riferimento importanti che è il back office dove si può rivolgere, avere informazioni, avere accettazioni, avere tutte le spiegazioni del caso in attesa di essere avviato alla parte sanitaria. L'obiettivo principale era quella dell'opera di ammodernamento delle sale operatorie. Da lunedì si ricomincia? Da lunedì si ricomincia, ma devo dire che non abbiamo fatto solo questo. La clinica è stata radicalmente rovesciata. I locali che c'erano prima ne sono rimasti pochissimi ancora in uso, tipo il laboratorio di analisi che è rimasto più o meno come era prima perché aveva solo bisogno di piccoli interventi o la funzione farmacia che già era funzionante assolutamente bene prima. Però tutto il resto ha subito radicali cambiamenti. A cominciare dalle degenze, poi vedremo le camere operatorie, vede naturalmente questa bella ullo che abbiamo sistemato che consente all'utente di arrivare, di essere assistito e di fare anche prestazioni ambulatoriali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.